Prima di tutto ragazzi perdonatemi un pelo di ritardo rispetto al solito perché oggi il video non è uscito alle ore 12, so che qualcuno in pausa pranzo magari stava refresciando con insistenza il canale ma ho avuto altre cose da fare stamattina, sto preparando un evento che non c'entra niente con youtube e con il calcio quindi perdonatemi non ho avuto il tempo di registrare il video con la solita tempistica però oggi è match day e quindi questa sera ci troviamo ovviamente in live su twitch per le 8 e 30 questa sera in attesa della partita di un juventus parma infrasettimanale che devo dirvi la verità mi sta mettendo una pressione particolare perché tutto questo beh perché ieri sera mi sono guardato il turno infrasettimanale di campionato a differenza di tiago motta che ha detto no faccio una cena con la mia famiglia quindi non ci butto l'occhio in realtà anche io ieri se l'ho fatto una cena con la mia famiglia ma io l'occhio l'ho buttato lo stesso insieme a mio papà ci siamo guardati comunque la partita tra milan e napoli e se questo napoli è riuscito nuovamente a portare a casa questi tre punti anche una partita difficile sulla carta come può essere una trasferta san siro contro il milan milan mezzo incerottato e anche mezzo se si può dire così sabotato tra virgolette dallo stesso fonseca che ha deciso di partire senza leao anche in una partita in cui ha delle difficoltà evidenti dal punto di vista della formazione con tanti disponibili ma quelle sono letture sue che lasciamo da parte però noi dobbiamo guardare il napoli per forza di cose perché c'è davanti io tengo sempre monitorato anche quelli che ci sono davanti perché sono quelli che ci sono dietro perché mi avete preso e quindi questa juventus secondo me in questo momento un pochettino di pressione la va a prendere ovviamente per forza di cose nei confronti delle altre squadre che tiago motta ha etichettato definito come comunque favorite per lo scudetto a me non me ne frega niente è la sua sacro santo opinione sul sacro santo diritto io non voglio lasciare per strada niente ma sono convinto che anche lui in realtà la pensi così che perché anche ieri abbiamo parlato e vi dicevo per me era soltanto pretattica in occasione della partita contro l'inter però una juventus che viene da due risultati non proprio eccellenti non dal punto di vista solo della prestazione ma proprio anche del conquistato perché in champions league abbiamo perso con lo stoccarda per un gol a zero l'ultima invece di campionato per quanto sia stata esaltante per quanto ci siano state un sacco di indicazioni positive si porta dietro intanto una fase di non possesso una fase difensiva di basso livello dove la juventus ha subito quattro gol e sono tanti se non troppi e ovviamente alla fine poi è arrivato soltanto un misero punticino con il napoli di conte che si sfregava le mani perché era riuscito ad ottenere il risultato migliore nello scontro diretto tra juventus e inter ora lasciamoci da parte il passato ora andiamo a concentrarci soltanto su quello che sarà il futuro e sulla carta il parma è una squadra che per quanto possa avere potenzialità come anche ieri ha detto tiago motta in conferenza stampa porta alla juventus un'unica riflessione questa sera al treplice fischio per una partita giocata in casa sarà necessario aver ottenuto i tre punti senza i tre punti questa sera sarebbe difficilmente perdonabile possiamo dire così sarebbe difficile perdonare e scusare la juventus perché il passo falso c'era già stato anche in campionato con il cagliari c'era già stato anche in campionato con l'empoli non è che tutte le volte che incontriamo delle squadre cosiddette piccole che poi possono avere dei valori importanti per allenatore giocatore proposta quello che volete però sappiamo bene che per arrivarla in alto per fare più punti possibili per ottenere determinati risultati per considerarsi una squadra grande e non solo una squadra che vuole tornare grande sono le squadre piccole che ti portano poi i punti ti portano la consapevolezza ti portano anche un po più di credito nei tuoi confronti e anche i tifosi possono andare a fidarsi di te in maggior percentuale dipende tutto da quello che riesci a fare con le cosiddette piccole la juventus ha una propria formazione con turnover perché poi torneremo a giocare anche sabato contro l'udinese giocheremo alle 18 invece sabato quindi segnatevelo sul calendario la formazione della juventus segue un pochettino quello che è stato il filo conduttore che ha portato alle scelte con l'inter quindi una juve che dovrebbe schierarsi con una sorta di 4 3 3 che può ovviamente diventare 4 2 3 1 in determinati momenti della partita dove vediamo di gregorio tra i pali anche se qua il balottaggio con perini è sempre aperto è sempre attivo cambiaso sulla destra cabal sulla sinistra top sono d'accordo con questa cosa qui al centro gatti che torna a titolare dopo due partite in cui non aveva giocato e voi direte l'ultimo posto di calulu no e di danilo io credo che sia giusto così e qualcuno potrà dirmi ma come se è stato tutto il tempo a dirci che danilo non è pronto non può giocare in questa juve che non deve essere titolare ma lo confermo assolutamente però dico anche dall'altra parte che calulu non le può far tutte da quando bremer si è fatto male calulu non ha potuto saltare praticamente neanche la doccia nel nell'allenamento che l'ha dovuta fare la continassa non ha potuto fare a casa adesso sto estremizzando ovviamente però calulu non può leggerle tutte dato che la juventus avrà la necessità di giocare anche un'altra partita sabato e che la juventus viene da degli impegni dalle fatiche di coppa e la partita con l'inter io credo che sia giusto dare un piccolo turno di riposo da calulu dove al suo posto dovrà ovviamente giocare danilo perché poi alla fine gira che ti rigira quelli siamo con l'infortunio di bremer tant'è che visto che c'è un aggregato in difesa per la juventus direttamente dalla next gen un ragazzo che non conosco sono molto ignorante vedremo se stasera ci sarà la necessità di schierarlo anche lui poi abbiamo sempre sabona e ruy che sono aggregati alla prima squadra che invece abbiamo imparato a conoscere con la juventus dei grandi all'interno di questa stagione però io credo che sia giusto dare un turno di riposo calulu perché poi passato questo juve parma con gatti che ha già riposato calulu che riposa adesso io gatti calulu voglio vedere sempre titolare se stanno bene sempre 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 loro due perché quella deve essere la difesa assolutamente titolare con danilo che poi dovrà entrare all'interno delle rotazioni di partite infrasettimanali proprio come questo juventus parma mccenni locatelli confermati a centrocampo torna con mainers ma non gioca titolare perché al suo posto gioca turam in realtà gioca al posto di fagioli che era partito titolare con l'inter era stato sostituito con l'inter confermati mccenni locatelli che secondo me sono stati migliori nella prestazione rispetto a fagioli nella partita di san siro e torna turam dal primo minuto turam è un altro di quei giocatori che secondo me in questo momento ha necessità di giocare perché dopo l'infortunio è tornato con un po secondo me di ruggine addosso e deve cercare di togliersela e c'è un solo modo per togliersela cioè giocando questa è anche una partita dove turam potrebbe mettere in mostra le sue qualità dove potrebbe andare a formare una mediana 2 insieme locatelli con mccenni che invece andrebbe a sganciarsi un po di più però credo che sia giusto far giocare turam perché è da un po che non riusciamo a fine partita dire oh questa è stata una gran partita di turam anche col cagliari non era stato proprio al massimo davanti invece confermato il tridente che abbiamo già visto san siro con l'inter quindi wea a sinistra con se sao a destra e vlaovic di punta vlaovic costretto veramente a fare ancora più straordinari rispetto a lulu ma questo non per via dell'infortunio bremer ma per il rientro di milic che sta continuando a slittare ieri milic su instagram ha postato una bellissima didascalia a un suo video dicendo quanto cazzo mi manca tutto questo arec quanto ci manca anche noi aver la possibilità di scegliere tanto in prima battuta e poi dare la possibilità ad usan di riposarsi un pochino perché non è umanamente possibile continuare così quindi ti prego torna il primo possibile che abbiamo bisogno di te wea non mi era sembrato super pimpante e questo porta ildis a una seconda panchina questa non sarà una scelta di turnover questa sarà una scelta tattica quindi la volontà di provare soluzioni diverse con wea e con sei sao che sono due esterni puri a differenza di ildis che invece è un giocatore che secondo me ha anche bisogno in questo momento di togliersi questa responsabilità di titolare inamovibile che gli era caduta addosso perché non dimentichiamoci mai che questa è la prima vera stagione di ildis da titolare della juventus e non può e non deve essere addossata tutta la pressione di far girare la squadra quindi secondo me il fatto che sia stato in panchina con l'inter per una scelta tecnica di cercare di sfruttare l'ampiezza in maniera differente è entrato e come è entrato quanto è stato impattante può essere una scelta molto interessante di tiago motta che ovviamente non sta bocciando il ragazzo gli sta dicendo ora hai la possibilità di sgonfiarti un pochettino a tutte queste responsabilità che ti abbiamo dato e che ti abbiamo attribuito prenditi il tuo tempo perché ovviamente non dobbiamo dimenticarci che il tuo deve essere un percorso di crescita graduale quindi sono molto d'accordo con questa scelta con ildis che secondo me entrerà a fare il falso 9 a un certo punto della partita con vlaovic che andrà in panchina a riposare e sono ancora contento di vedere con se sao titolare perché perché nell'ultimo video vi dicevo che cambiaso e con se sao devono essere la fascia destra titolare della juventus di riferimento non dobbiamo togliere più questa fascia destra ovviamente nelle occasioni del turnover sì però dobbiamo cercare anche di oliare i meccanismi tra questi due giocatori per un motivo perché sono per qualità e per incastro tecnico veramente due giocatori che possono diventare la corsia di riferimento per la juventus un po come è stato teo e leao per il milan dove sono stati costruiti dei successi come lo scudetto come un percorso in champions fino alle semifinali nell'anno in cui sono usciti poi nel derby d'italia anzi nel derby di milano con l'inter dopo aver eliminato anche il napoli dello scudetto quello perché teo e leao sono diventato una corsia una fascia un punto di forza del milan che noi all'avventus non avevamo ancora trovato chiesa cambiaso è sembrato qualcosa che poteva funzionare cambiaso con se sao mi sembra veramente qualcosa di troppo naturale per non sfruttarlo al cento per cento e dato che con l'inter abbiamo visto una partita fortemente indirizzata sulla fascia destra per la juve sono convinto che anche oggi sarà così ecco la possibilità di lasciare wea e cabal con anche un po meno attenzione da parte dei giocatori che dovranno marcarli e quindi più possibilità di far male dalla parte sinistra queste sono le mie considerazioni fatemi sapere se siete d'accordo con quanto vi ho detto aspetto i vostri commenti qui sotto nell'apposita sezione e noi ci vediamo stasera in live e con tutti i contenuti poi post partita qui sul canale youtube ciao a tutti